l'intesa vincente con gilberto in mano sgancio sti soldi che fa ti rompo le tette gli ha detto alla tipa chi è il politico che sa mio come diventi quando infili che parola vergine come diventi quando infili ma se non lo so ma se non dovresti ridere ma se c'è qualcosa che proprio non quadra ma se hai sbagliato bravo bravo che la gente come noi come sei quando non hai ancora troppo vergine bravo bravo con cosa baci la bocca tocca fallo noi tocca fallo noi un un'intesa vincente con con gilberto il nano ma ce ne stanno altri ho letto parti tre ci credi che quando mi hai detto sto gioco era l'unica domanda che non volevo ciao ragazzi siamo alla gott league con we are zoomer a chi vuoi più bene vuoi più bene a fratino o matteo ma che domanda no si può schippare no per forza uno un po più del un po più di più dai mi vedo davvero come due fratelli è veramente difficile anzi meme di quello di telegram ma che vuoi più bene tra fratino e matteo no va bene allora mi tocca no dai a chi cazzo vuoi più bene no dai mandami 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 un un trillo su msn dai ehi ehi ti faresti questa sisona dai rispondi si o no dai ehi vuoi venire in live con noi ti faremo domande tipo mh dai ingoi la sborra o no ti piace il gusto dell'ospedale tre due uno no no è la faccia di uno che perma urla a ceiano no è la faccia di uno che lo sta la sta buttando in caciara guarda il mas già lo vedi già lo noti tuo papà che lavoro su bitch no raga eh ma non dirà mai stalla dice blu dice blu dice adesso urla papà blu all'infinita e c'è ma è blu no no errore nostro errore nostro nel senso lo fa lo fai indeterminamente in qualsiasi tuo padre che la stella quello che ti suggerivo è una di prima la stalla tre due uno ah si tocca fa tocca fa un coso con gilberto tocca fa un intesa vincente con gilberto se fa subito vedere come come effettivamente se può sono sensibili tre due uno prima passate sono sensibili tesoro è un mangiatore di verdure es esclusivamente verdure no 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 io lo faresti in francese dove in italiano non lo faremo dire in francese può fare una traduzione eeeh 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 ma si «Le'Vebo» 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 «Lev troops» «Le promoting delercito» «Le'Vebo» «L'Evèbo» «Le an development» «Leovi-bebo» Chi è chi mangia verdure erbivoro ha detto Diego, eh sì Diego è erutta regà Un adulto che non sa un cazzo Creators Ci sono tre cose qui Allora, ci sono tre cose che Adesso non Tre cose in questo video che ti faranno dire Porca miseria, non le avevo notate Faccio tipo i video quelli là, le top Di qualche canale tipo i DS I D5 o come si chiamano Prima di tutto Dove sono le gambe di Gilberto il nano? Nessuno le ha viste Nessuno in realtà ha visto le gambe di Gilberto il nano Perché le avete scambiate per il coso del tavolo O al massimo della sedia Perché le gambe di lei generano Gilberto il nano vero e proprio? Guardalo Questo è letteralmente Gilberto il nano Il sopramuscolosissimo con le gambe di lei È letteralmente Gilberto Ecco perché Gilberto il nano Questo è letteralmente Gilberto il nano È lui, è preciso, è elegante, è sexy E la terza, boh, la terza non la so Ma lei chi è? Mi sa che è Gaia Clerici lei Questi cazzo dei pantaloni sotto il scamo Vanno dei modi Dei pantaloni sotto le scarpe Vanno dei modi La terza, boh, la terza non la so La terza, boh, la terza no